e siamo al secondo episodio allora c'è qui e c'è qui vediamo che cos'è la coppa speciala speciale gelato certo speciale andiamo che schiantata che schiantuggiata nooo non ci credo il gatto sarebbe? chi sarebbe questo gatto? facciamo nooo dai ma uscoltato dai ma tanto per dire no? nooo che schiantate che li fa il coloreno che schiantate nooo dai ma c'eravamo quasi perché non si può praticamente no non pareste stupisata all'inizio bam sabbia nooo nooo qua non va sulla riga ah ma come fai? le stanno mettendo più lunghe le scale eh? forse che bisogna fare i lì per salto nooo ma dai ma è tenuto normale ah in the save in the save ragazzi c'è una volta che li faccio in un attimo una volta che è veramente torto eh? nooo ma la oh cerchio esci da sta cop speciale che non mi interessa oh andiamo a fare negozio di salto oh ah oh ah 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 Sì, 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 sì. Dai Quella coppola mi sa che è una cosa un po' particolare Salti logo Andiamo Ah bisogna fare il cerchio Quadrato Porca Che cosa ho compilato E' bello questo tutorial che ti fa imparare un po' Come le cose prima Ciao Allora 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 Devo ricordarmi Che c'è anche il cambio di Eh vedi Ah mi è incasinato un po' eh Cospita Eh Che lo tosto stavolta Quelli quasi non vado niente No andiamo su quello più tranquillo Porca C'è anche qua il Beh insomma Sono torti da tutte e due qua Andiamo su quello torto E vai Grande sciroppata Mi sono divertito Mi sono divertito 12.000 Mi sono battuto Cruz Grande Cruz Questa cos'è Il terzo ecco l'ho letto adesso, speciale, secondaria qui diciamo che una volta che uno impara bene e va viaggia bene si può anche fare andiamo sullo skate, vedi stavo li a sentirmi tutte le menate di questi qui secondo me bisogna anche non prendere queste cose qua, i volatili dopo un po' si prende un po' la mano, anche se secondo me ce n'è qualcuno che è veramente torto e vai hai fatto una cosa incredibile, incredibile quanto è scritto, cos'è che deve dire tutta quella ragazza lì ma non parlare, andiamo a skateare ecco questo è vero, è vero, notevole, notevole devo dire, notevolissimo, frani allora ingrandiamo la mappina, stiamo arrivando quasi alla fine del primo no, tutto a posto, può essermi d'aiuto? no, no assolutamente, su aiuto? no pantine povero chi è stato? è il rospo che mi ha è il rospo che mi ha no ho preso posto ai rossi, non sono rossi, sono gabbiani fanno anche il suono del gabbiano quando viene stirato e il salto finale ci sta sempre da Marco Drums Games, c'era davvero rinfrescante dai facciamo gli ultimo 15 minuti dai dai facciamo 15 minuti ancora e poi ci vediamo alla prossima alla prossima puntata di questo gioco incredibile no vuoi cercare il segreto? no 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 grazie io lo so tutto ah bello quella con la rampa che fa avanti e indietro facci prudire il futuro slowstar dimmi il futuro nooo grande slowstar no 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 porca loca ma sei serio no con ciao 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 e aspetto mi deve predire il futuro il ragazzo holy holy volo dello skater no ormai scherzavo sempre quell'altro che deve stare lì a mezz'ora ma non ci interessa noi siamo skater professionistici non ti puntare non ti puntare non ti puntare no ho sbagliato scherzavo il triangolo qui bisogna fare i trick 400 mila euro ci si poteva anche tirar su secondo me non so come ma c'era un modo per tirarla su grande qui credo che sia il fine mondo no vado di skate e poi è una questione di rifare fin quando si aumentano i punteggi si prendono tutte le cose no raga no raga la lecchiera del gatto la lecchiera del gatto salta lungo salta lungo sono dei punti qua ragazzi davvero che prendono una velocità incredibile 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 oh tecnolass l'abbiamo fatto grande ricompensa ricompensa tante cose che lui ci dice ma noi l'abbiamo fatta bella 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 go gro 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 nar vana ok oh e si apre il nuovo il nuovo mondo che faremo la prossima volta o proviamo il primo proviamo solo il primo per farvi vedere com'è il mondo e poi ci stacchiamo il video e ci vediamo al prossimo solo per vedere com'è ah forte si può stare appiccicati sui muri mi piace mi piace questo sarà nei prossimi video ragazzi l'appiccicatura sui muri la faremo nei prossimi prossimi videozzi amici e amiche mi raccomando di seguire il canale di marco trans games channel seguirmi su youtube qui dove posto un sacco di video di tantissimi giochi guide tutorial playstation plus xbox series x tante 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 cose tante tante cose ok ragazzi allora come si dice grazie a tutti mi raccomando di seguire il mio canale youtube qui commentate iscrivetevi al canale e un bel pollicione mi raccomando anche di seguirmi su canale twitch dove ci sono delle live fichissime sempre marco drums ragazzi marco drums marco drums games anche su facebook twitter instagram tiktok twitch e discord e discord e discord penso di non aver dimenticato nulla ci vediamo al prossimo video di questo gioco oli oli ciao amici miei alla prossima